Inserire o sostituire condotte e tubi senza scavi, sembra una missione impossibile invece la concreta opportunità offerta dalla tecnologia NoDig senza scavo, appunto che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sta sperimentando con successo nella realizzazione del distretto irriguo numero 8 a Castiglion Fiorentino. Le nostre tecnologie della Tracto Technique si inseriscono in un contesto di NoDig, quindi di tecnologie che permettono di partire da un pozzetto, finire in un pozzetto, attraversare sottoterra canali, strade, senza dover procedere alla rottura di questi o senza dover distruggere in qualche modo l'ambiente e i sottoservizi, tutelando i sottoservizi, quindi green è la definizione adeguata. Noi come Consorzio stiamo utilizzando sia in progettazione che in realizzazione questo tipo di tecnologia perché permette in un'ottica anche di aumento prezzi vertiginoso dei risparmi di tempi che consentono poi la realizzabilità delle opere. Attualmente la stiamo applicando nei lavori del distretto irriguo numero 8 a Castiglion Fiorentino sia per l'attraversamento del Fosso Bigurro che per l'attraversamento della strada regionale. Questa tecnologia poi la applicheremo anche, anzi è in progettazione per quanto riguarda il distretto 23 su Foiano in diversi attraversamenti e questo serve per minimizzare gli impatti per la popolazione e soprattutto velocizzare poi anche i tempi e permettere di mettere in maggiore sicurezza anche coloro che andranno a fare poi i lavori.